Ciao a tutti, nuovo video, un video recensione che sto registrando subito dopo l'ultimo video che vi ho caricato sul canale per tornare, per coprire almeno con un video a settimana, almeno questo mese, forse. Sto leggendo tantissimo, come vi ho detto nel video all dei miei regali di Natale, ho fatto anche un account su Goodreads proprio per tenere traccia e fare anche delle piccole recensioni di quello che sto leggendo, voglio arrivare almeno a 35 libri letti quest'anno, lo scorso anno in realtà non so quanti ne ho letti perché sulla mia agenda ho un elenco dei libri che compro, l'aggiorno eccetera eccetera, però in realtà c'era un 2017 insieme a un 2018 e quindi ho perso a un certo punto. Il conto e poi soprattutto sono rimasta bloccata, soprattutto negli ultimi mesi con alcune letture che non mi sono piaciute, infatti l'ultimo video che ho caricato se non sbaglio è un video recensione o comunque lì era un video recensione ma non sono più andata avanti perché in realtà non ho più letto niente che mi abbia fatto sognare o comunque mi abbia intrattenuto. E finalmente con gli ultimi due libri che ho letto ho riscoperto cosa vuol dire avere per le mani un libro che ti invoglia a leggerlo in una settimana massimo l'hai finito. E questo è uno di quei libri l'ha. 2000 giorni dei lupi con D. Jim e Jamie Daucher, libro PM ed è un regalo che mi ha fatto Alessandro che è il capo gremlins, il mio ghismo personale e me l'aveva regalato addirittura a maggio, me l'aveva portato a Masserano insieme a anche due candele di Frey e di Odino e io non l'ho letto praticamente fino alla fine del 2018, l'ho iniziato alla fine del 2018 e finito nel 2019 ma appunto tra Natale e Capodanno. e allora questo non è un libro di una storia troppo recente nel senso che parla di due documentaristi di cui una lei è anche medico veterinario che hanno vissuto praticamente sei anni con un branco di lupi per poterli studiare in un momento in cui il lupo era molto bistrattato. non c'è, io non sento che questa cosa sia cambiata molto, credo che il lupo continui ad avere una sorta di storia circolare viene annientato, viene cercato di recuperare la sua, come si dice, fama, viene informata la gente, il lupo viene amato e poi viene di nuovo ricacciato. siamo appunto negli anni 80-90 e il lupo era praticamente quasi sparito per colpa dei cacciatori un po' ovunque qui siamo quasi nel territorio del parco di Yellowstone, quindi America fate conto che appunto la conclusione di questo libro è molto bella perché si hanno tracce di un lupo selvatico che ritorna dopo quasi 50 anni in cui non vi era traccia di lupi selvatici in quella zona. E lo trovo, nonostante sia degli anni praticamente in cui io sono nata, questo documento, lo trovo un libro super attuale perché adesso che i lupi sono anche più numerosi nel nostro paese continuano a essere degli animali su cui circolano, circolano delle voci inesatte, storie brutali, cose senza fondamento, insensate vengono colpeivolizzati per cose che non causano loro. Lo dico perché recentemente, in mesi scorsi, sotto a uno dei video che ho fatto, non ricordo se era quello del parco che sono andata a vedere in Spagna oppure se era ancora un video più vecchio dove vi parlavo forse di un altro libro sui lupi o addirittura quello che avevo fatto contro il servizio delle iene, una persona è venuta a scrivermi sotto che i lupi vanno uccisi, che sono degli animali di merda, che faccio bene io a parlare così quando non ho il bestiame che viene attaccato e ridotto alla fame per colpa dei lupi e quindi mi rendo conto che questo pensiero, questa disinformazione resta ancora tantissimo viva anche nel nostro paese dove appunto si cerca di fare un lavoro di promozione del lupo ma questo viene fatto un po' ormai credo in tutti i paesi per lasciar vivere seriamente questo animale che tra l'altro è importantissimo per la flora e la fauna selvatica di un certo tipo. Ero indecisa se farvi la recensione di questo libro o no ma soprattutto anche dopo gli avvenimenti dovuti a questi incidenti stradali dove hanno perso della vita delle persone dovute ai cinghiali che hanno attraversato un'autostrada ho sentito ancora più il bisogno di riportare la promozione del lupo. Questo perché? Perché tanti hanno pensato che incrementare gli abbattimenti dei cinghiali possa ridurre situazioni di questo tipo che diventano pericolose per l'essere umano in realtà se uno fosse ben informato sa che abbattere un gruppo di animali non toglie il problema crea soltanto insomma un attenuante, un precedente per chi ama chiamare la caccia sport Il fatto invece di ripristinare un ordine naturale dove una preda ha un predatore che lo caccia fa sì che ci sia un controllo sulle nascite di un animale che fa danni come lo fa il cinghiale perché non sono solo situazioni di incidenti stradali in cui appunto un branco di cinghiali attraversa una strada di quel tipo e causa la morte di persone ma si parla anche di danni agli orti, ai campi dove loro vanno a grufolare, a camminare eccetera ho visto dei filmati veramente di orde di cinghiali con non lo so 40 cuccioli che diventeranno adulti che si riprodurranno senza controllo perché non c'è nessuno a parte i cacciatori ad avere un controllo su il numero di questi bestioli ecco che il lupo risulterebbe estremamente importante in una situazione come questa perché come si è visto, come è studiato e documentato mantiene assolutamente il controllo delle nascite e contiene il numero di prede di qualsiasi tipo quindi parliamo anche di ungulati, di cervi tra l'altro dove tornano alcune specie di animali torna il lupo e viceversa quindi si ricrea un ecosistema che noi abbiamo attaccato in tutti i modi a tutti quelli che la pensano diversamente non lo so, cioè io capisco che possa dispiacere vedere la propria pecora la propria capra, la propria mucca sbranata e lasciata così in un campo neanche smaltita a dovere il fatto è che se fosse veramente informati sapreste anche che praticamente il 99% delle volte non si tratta di lupi ma di ibridi che probabilmente hanno partorito le stesse cagne di questi allevatori perché in realtà studi accertano che la nascita dell'ibrido quindi di un cane che è praticamente identico a un lupo un occhio inesperto come è sicuramente anche il mio nascono proprio da femmine, cane e maschi lupi perché è difficilissimo che un lupo in natura accetti un cane all'interno del branco o insomma si relazionino cani e lupi insieme perché benché discendano tutti dalla stessa grande famiglia sono animali totalmente diversi e anche se hanno tratti simili, molto simili, sono animali diversi l'unica combinazione attuabile è quella della femmina di cane in calore e il maschio che cerca una femmina con cui riprodursi detto questo sono indistinguibili però si distinguono proprio dal tipo di carattere io questa cosa l'ho già detta in altri video ma ci tengo a ribadirla per informare le persone non perché io sia un'esperta semplicemente sono un'appassionata che legge che si documenta quando può non è una fissa anche se mi vedete magari parlare spesso di questo animale a cui io sono legata per diversi motivi però proprio mio è un po' un senso di giustizia perché è un animale che è stato demonizzato anche a livello mitologico spesso rappresenta il male in qualche modo ed è veramente terribile perché se conoscessimo tutti quanti invece l'anima del lupo sapremmo che non è tutt'altro che questo e a parer mio io più so cose dei lupi più leggo cose dei lupi più leggo storie come questa più mi rendo conto che forse tutto questo male che è stato fatto a questo animale è una sorta di invidia che l'uomo ha per questo animale che in realtà è perfetto il suo ruolo nella natura è qualcosa che comprende quasi un piano superiore dettato quasi da un piano superiore a cui noi ci sentiamo sempre tagliati fuori come se non riuscissimo a capire un piccolo segreto eppure siamo esseri umani noi quindi più di qualsiasi specie secondo me il lupo è tutto ciò che l'essere umano non riesce a essere e questo libro secondo me la conferma di cosa parla questo libro? parla di Jim che è appunto un documentarista che ha iniziato in realtà la sua carriera con dei castori per poi passare a un documentario sul Puma per poi finire a parlare di lupi a interessarsi ai lupi quasi casualmente anche se c'è una piccola predestinazione data da un incontro fatto con un lupo da ragazzo che l'aveva ovviamente affascinato molto svela il trucco del documentario nel senso che subito nelle prime pagine noi leggiamo che di tutti i documentari che noi vediamo le scene che noi vediamo sono quasi mai di animali liberi animali selvatici soprattutto in casi come il lupo dove sono rarissimi gli incontri tra lupi selvatici e esseri umani perché tendono a non avvicinarsi agli esseri umani motivo per cui sempre non sono i lupi ad attaccare il bestiame ma ibridi che hanno invece questa caratteristica intrinseca del cane che dà più fiducia all'essere umano ma sono sempre tutti animali in semi libertà solo così si possono fare determinati documentari l'esempio che lui fa è proprio quello del castoro che comunque non è un predatore un animale semplice tra virgolette del fatto che per fare 15 secondi di ripresa lui abbia dovuto utilizzare tre animali diversi di cui si uno selvatico preso da lontano uno catturato e trapiantato nel laghetto di casa sua per fare delle riprese subacquee poi liberato e un terzo animale con la cucciolata in cattività la sequenza era semplicemente il castoro che prende un rametto e lo porta nel nido dove i cuccioli sott'acqua ha dovuto utilizzare un albero che ogni giorno per non so quanti mesi lui portava in un determinato punto sperando che la colonia di castori nei pressi di andasse proprio a rosicchiare il ramo di quell'alberello che lui faceva finta di piantare lì tutti i giorni poi ha preso appunto il castoro per fare la ripresa di lui che nuotava con il ramoscello sott'acqua e poi in un posto dove gli animali erano tenuti in cattività è riuscito a riprendere una tana di castori lo stesso è stato con un puma quindi situazione di recinto tenuto in semi libertà quindi non addomesticato come se fosse un micio ma comunque contaminato dall'essere umano e racconta che è l'unico vero modo per poter fare certe riprese quindi anche quando nei documentari vediamo soprattutto i cuccioli di un determinato animale quelli sappiate che sono tutti animali ripresi in semi libertà e sebbene magari qualche purista o difensore degli animali potrebbe storcere il naso in questa notizia io stessa quando leggo queste cose mi sento sempre un po' combattuta e lo vediamo proprio con questo libro un fatto determinante e molto importante per talvolta l'animale stesso quindi Jim vuole iniziare questo documentario e per fare questo documentario sui lupi ovviamente ha bisogno di un branco di lupi si susseguono diverse vicende di inserimenti adesso io non ricordo tutti i nomi di tutti i lupi perché ce n'è una decina diciamo che vanno e vengono ma soprattutto sono tutti nomi particolari perché discendono da lingue native quindi un po' indianeggianti ecco in ogni caso inserisce mi sembra tre lupi all'inizio no due lupi un maschio e una femmina sperando che loro facciano coppia in realtà ni dopodiché siccome comunque non figliano decide di aggiungere tre cuccioli mi sembra o quattro qualcosa del genere e la femmina presente nel branco non accetta i cuccioli dal primo momento in realtà il lupo è molto propenso ad accettare dei cuccioli anche se non sono suoi si vede poi nel corso del libro con tutti gli inserimenti vari fatti questi cuccioli ovviamente sono stati allattati da Jim e dal suo staff e quando avevano circa due mesi credo ha iniziato a reinserirli presentandogli prima eccetera eccetera in ogni caso il primo lupo maschio si chiamava Kai li ha accettati subito mentre la femmina si è allontanata dai lupetti non li ha mai voluti incontrare e diciamo che molto brevemente per un motivo o per un altro entrambi i due lupi adulti sono poi stati allontanati dal branco perché non idonei al progetto la prima appunto sembrava quasi pericolosa questo si vince soprattutto nel libro dico soprattutto nel libro perché poi voglio parlarvi del fatto che esiste un documentario su questo libro quindi se non avete modo di reperirlo di leggerlo o di comprarlo potete guardare il documentario che è abbastanza in linea con il contenuto del libro quasi precisamente quasi precisamente mentre Akai viene riportato praticamente dalla sua famiglia precedente a questo esperimento perché in realtà non è idoneo per fare l'alfa infatti tra i quattro cuccioli inseriti dopo emerge praticamente nell'età quasi adulta circa 7-8 mesi la personalità di un particolare lupo che si chiama Kadmos o Kadmos comunque scritto e sempre in questa piccola cerchia si evince anche Nash il primo Omega del branco che sarà proprio il fratello di Kadmos che oltretutto è il lupo più grosso del branco ma non per questo diciamo il più dominante e che sarà la cota appunto l'Omega che con tutta la varia varia descrizione del ruolo dell'Omega è la pena che un po' fa l'Omega verranno poi aggiunti altri cuccioli ci saranno diverse questioni tra cui anche l'uccisione di una delle lupe da parte di un puma entrato nel recinto all'inizio del libro c'è anche la cartina del recinto quindi voi non immaginatevi una gabbietta e una cosa tipo quelle che io appunto ho visto quest'estate in Spagna praticamente sono tenuti insieme libertà hanno tutti i modi per potersi nascondere cioè loro quando appunto ci sono dei lupi che si nascondono per diversi motivi loro ci mettono anche giorni a trovarli quindi ecco al progetto si aggiunge a un certo punto Jenny che è una conoscenza di Jim precedente al branco di Siosut che è questo il nome delle montagne dove viene ospitato questo branco ed è anche il nome con cui trovate il documentario qui su youtube appunto il branco di Siosut scritto Sav tutt magari ve lo lascio linkato nell'info box Jamie è un medico veterinario che fin da bambina ha avuto passione per gli animali conosce Jim durante un volo aereo i due hanno inizialmente mi sembra di ricordare una breve relazione che però non sfoce nulla di che credo anche che la differenza di età tra loro due sia notevole comunque sia rimangono in contatto via lettera infatti Jamie dall'altra parte dell'America lavora per uno zoo dove comunque può avere contatto con gli animali come è sempre sognato e Jim ogni tanto la interpella per avere anche dei consigli o comunque semplicemente per raccontarsi tra l'altro nel documentario fa vedere che chiede l'aiuto di Jamie a proposito proprio della prima lupa quella che aveva rifiutato i cuccioli che se non ricordo male è Mazzi ma non sono sicura che sia lei comunque perché a un certo punto Jim nell'osservarla vede che Mazzi non vede bene quindi pensa che magari rifugge un po' la situazione da branco proprio a causa di questo handicap visivo che ha e quindi la fa operare da un medico veterinario invece in realtà non è non cambia la situazione tanto che poi appunto Jim non ricordo se l'ho già detto perché ho fatto una pausa tra un pezzo prima di questo video questo comunque è costretto a dover supprimere Mazzi perché non trova un posto dove poter lasciare questo lupo al contrario di Akai il primo lupo che ha tentato di far diventare un alfa ma che non era assolutamente propenso a ricoprire questo ruolo che invece è tornato a vivere con la sua precedente famiglia ad ogni modo appunto con l'emergere del carattere anche di questi nuovi cuccioli diciamo che in sostanza si crea un vero e proprio branco con questo alfa che ricopre perfettamente il suo ruolo in tutte le varie sfaccettature come immagino sappiate la gerarchia all'interno del branco è tutto e si stabilisce nel momento in cui il branco mangia l'alfa mangia sempre per primo ed è colui che dispensa i turni e permette a un lupo di mangiare o meno e anche nel documentario si vede come allontana la cota che essendo l'omega mangerà per ultimo dalla preda ed è molto triste per certi versi vedere come viene trattato soprattutto nella circostanza dove comunque il cibo avanza per tutti anche se loro sono sempre stati molto attenti a dare carcasse prevalentemente di animali trovati morti per incidenti stradali o cose del genere che non fossero mai in eccesso rispetto alla quantità di cibo che poteva essere consumata in modo da non lasciare prede semi consumate all'interno del recinto così da non attirare animali come appunto quelli che hanno ucciso una delle lupe all'interno del branco una lupa che anche lei aveva un po' problemi di integrazione tendeva molto ad esigliarsi e alla fine è stata trovata morta con delle ferite che sostanzialmente indicavano che probabilmente aveva subito l'attacco da parte di un leone di montagna di un puma e appunto con l'arrivo dell'ultima cucciolata esterna arrivano un maschio e due femmine di cui un maschio e una femmina sono lupi grigi fratello e sorella della stessa cucciolata l'altra lupetta è scura e appartiene a un'altra cucciolata già nei primi giochi all'interno della yurta dove hanno vissuto Jim e Jamie per tutto il tempo yurta che da prima si trova fuori dal recinto ma poi viene spostata all'interno per osservare meglio i lupi si nota già lì il carattere che hanno questi lupetti tant'è che sperano che la lupetta diventi poi la femmina alfa del branco in realtà le cose andranno diversamente emergerà comunque una femmina da alfa che però non è quella che tutti si aspettavano e anche qui insomma si vede un po' anche la predestinazione quando ci sarà la stagione degli amori ovviamente il capitolo riguarda questa situazione particolare che vive il branco quindi il fermento il cambiamento del comportamento dell'alfa che serve e riverisce la lupa da lui prescelto fino alla nascita dei primi veri cuccioli del branco di Siosut a cui Jamie potrà dare un'occhiata con enorme privilegio e niente la questione sta praticamente arrivando alla conclusione infatti Jim e Jamie devono sostanzialmente trovare poi un posto per questo branco diverso dal recinto delle montagne del Siosut che era una concessione data dalla forestale però era un contratto insomma senza possibilità di deroghe a un certo punto dopo sei anni erano costretti a dover trovare una nuova casa che non prevedeva probabilmente il fatto di poter continuare ad accompagnare questo branco trovano una casa c'è tutto il viaggio ci sono anche dinamiche un po' drammatiche qualche spauracchio preso nel dover spostare questo branco ci sono anche lì il modo in cui questi animali si ambienteranno nel loro nuovo posto molto teneri molto significativi che rappresentano alla perfezione l'unità familiare come funzione come lavora perché questo è l'argomento poi principale di questo libro scoprire quanto è perfetta una famiglia di lupi e di famiglia si tratta oltretutto ci sono degli aneddoti qua e là sui comportamenti che accentuano ancora di più questo questo discorso come per esempio il fatto che Jim a un certo punto racconta di aver visto durante i suoi studi un teschio di un lupo a cui chiaramente era stata spaccata la mascella probabilmente durante una battuta di caccia con un calcio da parte di un alcio o comunque da un animale di questo tipo ma che questa mascella si sia risaldata prima che il lupo morisse quindi il lupo non è morto perché non riusciva più a mangiare e questo vuol dire che probabilmente questo lupo è sopravvissuto grazie al resto del branco che probabilmente dava da mangiare a questo lupo vomitando la carne esattamente come si farebbe per un cucciolo in modo che lui la pandola potesse cibarsene e quindi guarire e sopravvivere quindi questo denota il fatto che non sia un animale che agisce puramente distinto ma che ci sia tutt'altro molto accento è posto anche sull'ululato la funzione dell'ululato che per certi versi resta comunque ancora misteriosa ma di come questa sia probabilmente una comunicazione tra i lupi stessi in ogni caso appunto una volta separatisi dal branco purtroppo a chi è stato dato questo branco non ha nel tempo avuto le stesse accortezze che avevano riservato Jim e Jamie e infatti i componenti iniziano a morire nel documentario si capisce che i lupi cominciano a morire per una questione di età in realtà nel libro no infatti c'è proprio una frase che dice era una bella favola ma non ha avuto un lieto fine quando muore il capobranco si sospetta che insomma sia morto per mancate cure di qualche tipo viene ritrovato poi tra l'altro tre mesi dopo la sua morte e di lì in poi insomma il branco comincia abbastanza a sgretolarsi l'unica nota positiva di tutto questo lavoro e nel dolore che comunque Jim e Jamie si saranno sicuramente portati dietro dopo aver vissuto questa avventura magnifica lontanina della civiltà immersi e quasi parte di questo branco e aver avuto questo privilegio è comunque colmata dal fatto che tornando anni dopo laddove c'era il branco di Seussut trovano delle tracce di un lupo probabilmente un lupo selvatico che era passato lì magari spinto dall'odore del branco di Seussut vissuto lì tanti anni prima magari per altri motivi ma la cosa era importante perché segnava il passaggio di un lupo dopo 50 anni attraverso cui insomma non si erano più avvistati dei lupi allo stato brado un'altra nota positiva è il fatto di aver avuto riconoscimenti per questo documentario che da prima sembrava quasi non interessare a nessuno in realtà si parla di due documentari all'interno di questo libro comunque il secondo sembrava quasi che nessuno interessasse produrlo o vederlo ma il riscontro fu totalmente tale non tanto quanto magari tra gli studiosi ma quanto tra la gente comune proprio nel far scoprire quanto fosse prezioso questo animale tra l'altro il secondo rinnovo della possibilità di tenere il branco l'avevano avuto proprio perché la fauna dove risiedeva il branco era più florida rispetto che laddove non c'erano animali soprattutto anche dato dal fatto che mancando come dicevo all'inizio del video dei predatori in natura tutto ne risente perché poi le prede fanno dei danni che si ripercuotono sulla natura stessa proprio per la mancanza di controllo delle nascite e ci sono stati allevatori che appunto un tempo sparavano uccidevano il lupo e davano la caccia al lupo che hanno praticamente confessato di non riuscire più a guardare il lupo come prima perché attraverso il documentario di Jim e Jamie hanno scoperto la bellezza di questo animale del fatto che sia molto simile all'uomo e pertanto meriti molto più rispetto di quello che gli è stato dato purtroppo come dicevo prima questa situazione permane nel senso che continua ad essere ciclica c'è mancanza di informazione probabilmente è un circolo vizioso dato anche dai cacciatori stessi io credo che con la presenza di un antagonista in natura che fa il lavoro a cui invece sono chiamati loro viene meno poi la possibilità di avere consenso per la caccia come modo di monitorare le nascite e quindi poi se non c'è più bisogno dei cacciatori diventa un problema giustificare questa roba in ogni caso noi tifiamo sempre per il lupo e per il ritorno del lupo e niente io vi consiglio di leggere questo libro per conoscere questo animale io nonostante abbia letto altri libri sull'argomento mi ha comunque dato delle cose che non conoscevo di questo animale quindi c'è sempre da imparare e in alternativa guardate quantomeno il documentario che ovviamente è vecchiotto perché stiamo parlando del 96 mi sembra l'anno in cui si è uscito però secondo me è bello ringrazio ancora la ragazza che me l'ha linkato perché in realtà io lo stavo cercando col titolo originale che è Wolves out of the door mi sembra out our door che è anche il titolo originale del libro stesso ora ve lo dico bene Wolves at our door e invece appunto lo trovate come il branco di Siasut tradotto in italiano da Animal Planet qui su YouTube con questo era tutto spero che il video vi sia piaciuto se avete letto questo libro se avete altri libri da consigliarmi sull'argomento lasciate un commentino qui sotto lasciate un like che fa sempre piacere noi ci vediamo al prossimo video ciao